Passati un po' di giorni, ti chiedo come sta andando l'ambientamento nel nuovo gruppo, come ti stai trovando con i nuovi compagni? Molto bene, tutti sono gentili con me, lavorano bene, duro, sono molto contento di essere qua. Che cosa ti ha detto il mister quando vi siete incontrati per la prima volta? C'era molto contento che finalmente sono arrivato all'Inter dopo due anni e che dobbiamo lavorare per fare delle belle cose questa stagione. Sarà la tua prima esperienza nel campionato italiano che è cambiato molto rispetto a quando giocava tuo papà? Che aspettative hai dalla Serie A e perché ti affascina? Mi affascina perché mio padre ha giocato in questo campionato, allora sarà bello di giocare nel stesso campionato che mio padre, in una grande squadra come l'Inter. Non vedo l'ora di giocare a San Siro. Avversari nella finale del Mondiale ed ora compagni di reparto con la maglia dell'Inter? Che cosa devono aspettarsi i tifosi interessi dalla coppia Lautaro-Turano? Spero molti gol, molti assist e molte partite vinte. L'ultima cosa che ti chiedo è se hai un messaggio per i tifosi. Spero vedervi presto a San Siro e per delle belle vittorie e dei bei momenti. Grazie mille. Grazie.